Previsioni meteo per giovedì 10 marzo. Al nord torna il sereno su tutte le regioni con clima asciutto per l'intera giornata. Al centro a tratti piovoso sulla Sardegna orientale con fiocchi di neve sul genargento dai 900 metri. Nubi irregolari sulle regioni peninsulari ma con tendenza a generale rasserenamento dal pomeriggio. Al sud instabile sulle regioni peninsulari con piogge anche diffuse e frequenti tra Puglia, Lucania e Calabria, nevicate dai 1000-1200 metri pressoché asciutto in Sicilia. Venti moderati da nord. Mari fino a mossi, motondoso in aumento. Temperature stazionarie.